quando mi ritrovo a che fare con il dover disegnare gli elementi in modo preciso su envymet la prima cosa che mi viene da fare è pensare che è possibile inserire come sfondo un'immagine che possa appunto darmi le proporzioni degli elementi che devo andare a costruire per fare questo la prima cosa che mi viene in mente è andare per esempio su google map prendere una porzione del diciamo del territorio che mi interessa fare una sorta di fotografia in questa maniera qui quindi andiamo su per esempio cattura schermo e andiamo a fare un'immagine eccola qua che mi rappresenta la vado a salvare in formato bitmap mi rappresenta quindi quello che dovrò disegnare su envymet il bitmap di default c'è solo il png adesso lo apriamo subito con un altro programma e la salviamo in bitmap come richiesto file salva con nome bitmap a 24 bit ok apparentemente la stessa cosa ma questa adesso può essere letta da envymet all'interno della scheda digitize andiamo su select bitmap cattura bmp questa qui innanzitutto dovrebbe essere proporzionata rispetto al alla nostra griglia che in questo caso non ho fatto modifiche è quella olt 60 60 per 30 e seconda cosa anche se fosse ben proporzionata questa bitmap derivante da google map purtroppo non è davvero un orto foto ce ne accorgiamo quando con google andiamo ad avvicinare la telecamera e andiamo a vedere che google ormai ha sostituito le vecchie fotografie dall'alto con un'immagine tridimensionale che però purtroppo rimane in prospettiva adesso ho difficoltà di caricamento quindi qualcosa si vedrà male però si può capire già da questo elemento più rialzato come allo spostarsi io vedo che questo è ancora in prospettiva per risolvere quindi il problema della vista in prospettiva possiamo servirci di un altro servizio di mappe quello fornito da microsoft con bing mappe per l'occasione andiamo a vedere ecco qui facciamo la stessa ricerca piazza del popolo roma ecco qua e vediamo come effettivamente l'immagine è una vera orto foto in quanto anche loro sono partiti da una ricostruzione tridimensionale di tutta la città di Roma piuttosto che di tutto il mondo e l'hanno restituita guardandola dall'alto rimane comunque il problema come facciamo a scaricare ogni singolo pezzetto della mappa che ci interessa per esempio potremmo con un bel po' di pazienza fare un sacco di screenshot e riattaccarli poi con calma con photoshop magari oppure può venirci in aiuto l'utilizzo di un piccolo programma russo si chiama eccolo qui si chiama sasplanet lo facciamo partire poi il link in descrizione lo inserisco e metterò anche su drive una copia in questo caso sto usando la versione nitri cioè diciamo così la versione beta che è la più aggiornata anche i servizi sia di google che di bing funzionanti di default magari parte così con impostato il satellite di google e già qua possiamo vedere la differenza che dicevamo prima vedete qui lateralmente questo edificio qui si vede la facciata se andassi invece con bing con il tasto v qui vedo effettivamente solo il tetto il servizio di google ecco lo volevo ricaricare con g ecco qui mi fa vedere dall'alto si ma è ancora anche questo in una sorta di prospettiva che si risolve con bing ora questo programmino è utilissimo per scaricare una vasta zona come potete vedere lateralmente abbiamo una barra dello zoom questa cresce o decresce a seconda del livello appunto di zoom che ho richiesto e sarà da impostare questo valore per dirgli al programma scaricami tutti quanti i tile in una certa area io qui ho già fatto una selezione in una certa area a questo livello di zoom per farlo praticamente andiamo su shift così è chiamato il comando mi farà fare una selezione con un doppio clic dell'area di mio interesse e partirà a questo punto ecco una finestra con la richiesta appunto di download di questi tile imposto per esempio il livello di zoom diciamo 21 ecco diciamo il 21 andiamo già qui mi da un'informazione sono 21 per 18 tile 378 tile totali per un'area di 5081 per 4329 pixel andiamo su stitch in modo tale che oltre a scaricarceli ce li riunisce pure andiamo a decidere da subito l'estensione bitmap perché abbiamo già visto che di là è l'unico formato che riesce a leggere è remet dove lo salviamo per esempio lo salviamo qui sul desktop lo chiamiamo mappa mappa ok che altro abbiamo da impostare praticamente niente ah il livello di zoom lo dobbiamo impostare abbiamo detto 21 e cominciamo con start lui piano piano le scaricherà e le unirà quando tutto è finito andiamo sul desktop cerchiamo la nostra mappa e voilà abbiamo la mappa allo zoom 21 se questo zoom ritenessimo fosse poco potremmo sempre ricacciarne un'altra in maniera molto facile come abbiamo già visto ora qual è il problema che ha ancora questa mappa ecco la faccio la riapro per riguardarla tutta il problema è che l'area di selezione che ho fatto non è identica se così si vuole dire alla zona che avevamo impostato su amymet per capire quindi quanto è grande la mappa appena scaricata a zoom 21 visto che effettivamente non ci sono riferimenti grafici che mi indicano la grandezza degli elementi a meno che magari non conosco qualcuno di questi posso fare una cosa così la prendo e la carico su photoshop e carico insieme a questa uno stamp estratto scusate ecco sempre da la SAS Planet uno stamp a zoom 21 per esempio mi metto qui vedrò che qua sotto ho una scala metrica che mi indica da 0 a 20 metri e mi da un'informazione quindi che se faccio stamp posso riportare su photoshop ecco qua apparentemente adesso sembra più piccolina però se vado a ritrovare ecco il pezzo dovrebbe avere lo stesso livello di zoom come si può vedere qua a me ora non interessa però avere tutta quanta questa mappa ma solo questo pezzettino che mi dice questi sono 20 metri quindi butto tutto il livello lascio la parte interessata e contiamo quanti metri sono quanti metri sono rappresentati su questa mappa vado quindi a disegnare un quadratino sopra questo segno grafico ecco qua ottenendo quindi un quadrato di lato 20 metri questo lo possiamo pure togliere che se vado a raddoppiare avrò uno di 40 e così via io lo moltiplicherò per 5 lo trasformerò quindi facendolo diventare 500% 5 volte tanto tanto da avere 100 metri e fare un conteggio un po' più rapido 100 lo vado a moltiplicare a questo punto questo quadrato 200 300 400 500 faccio la stessa cosa in verticale 1 2 3 4 ecco no diciamo di avere di volere 400 per 400 ecco facciamo così quest'area di 400 per 400 andiamo a ritagliare con lo strumento taglierino che è qua giù attacchiamoci appunto a questi quadrati e otteniamo quindi quella che per me è l'area interessante ovviamente poi cambierà da caso a caso cancello questi quadrati in più e vado a risalvare la bitmap salva con nome mappa 2 bitmap ok torniamo su eccola qui torniamo su envipet e andiamola a caricare innanzitutto impostiamo sempre il progetto Roma andiamo nella quarta tab select bitmap e cerchiamo mappa 2 eccola qui vediamo che proporzionatamente parlando è valida abbiamo un po' di difetti rispetto ai colori in quanto purtroppo la lettura ad esempio delle bitmap ha questo difetto quello che ancora è da correggere è l'utilizzo della griglia perché di default non è di 400 metri per 400 metri piuttosto è di 120 metri in questo caso perché abbiamo 60 per un dx di 2 impostiamo quindi per l'occasione 80 per 80 con un dx e un dy da 5 impostiamo anche telescoping e giusto per questa occasione abbiamo esattamente la mappa calibrata secondo quello che è effettivamente il nostro modello di envymet andiamo a vedere su digitalize esistono anche dei piccoli tool che però io non amo utilizzare all'interno di envymet perché mi piace aggiustarla prima che permettono a questi tool di modificare il posizionamento anzi in questo caso la scalatura piuttosto che il posizionamento della bitmap come meglio crediamo un'ultima cosa volevo dirla rispetto all'altezza degli elementi che dovremmo andare a disegnare ovviamente in pianta non potremmo mai avere informazioni riguardanti l'altezza ed è stato impossibile con il sopralluogo che abbiamo fatto valutare tutti quanti gli edifici quanto erano alti probabilmente sarà difficile ricavare queste informazioni anche dalle mappe che vi forniremo durante il corso potrebbe essere però utile a questo punto andare a rivedere la mappa rd che avevamo visto prima con control attivo possiamo cliccando girare sulla mappa e visualizzare appunto in 3d la città di Roma possiamo navigarla e valutare quindi quanto effettivamente sono alti questi edifici purtroppo non posso effettuare una misura verticale ma posso fare una considerazione anche se è molto fortettaria come cosa posso considerare ogni livello che vedo qui come 3 metri quindi moltiplicarlo per il numero di livelli che incontro e definire quindi l'altezza di ogni edificio un altro servizio che può venirci incontro è sempre all'interno di Bing con la vista ravvicinata ci permette di visualizzare possiamo anche togliere le etichette così visualizzare una fotografia scattata a volo d'uccello se è possibile anche girarsi intorno a questa con l'apposito ecco qui con l'apposito cursore da questa parte a un certo punto sarà simpatico vedere quando c'è lo stitch di due foto sembra che qui sia passato Gary a costruire invece solamente l'unione di più fotografie che ha prodotto ovviamente questa cosa qui è